Bene, in questo decreto quotidiano prima o poi avremmo dovuto comunque parlare di teatro, nel doverlo fare, nel dover affrontare il testo dei testi, l'amleto... E perché è quello? Niente, è una cosa completamente... Allora, l'amleto è appunto, la battuta, cioè la prima battuta dell'amleto è Who's there in inglese, che significa chi è la cosa e quella cosa lì. Ed è la battuta che dicono Bernardo e gli altri guardie al castello di Elsinore, che dicono chi è là. Ora, è come se voi, ecco, noi guardassimo lì nel buco della... Guardate, lì, lì, nell'obiettivo, là, qui già, lì, lì, guarda. È come se ne guardassimo lì e chiedessimo chi è là, là. Guardassimo ben attentamente, guardate proprio dentro l'obiettivo per dire, è come se guardassimo il pubblico per dire chi è là, non è solo una domanda, è una qualcosa anche di filosofico. Sì, ma è qualcosa di più immateriale, papà. Chi è là, chi è là, chi è là, guardate, c'è un fan, chi è là, c'è l'essere umano. Pa, non ci sono sciolo.